E' un'esecuzione in piena regola, quella che si è verificata nel tardo pomeriggio di ieri a Francavilla Fontana, in via Occhi Bianchi, Paolo Stasi, 19enne del posto, è stato assassinato sul portone di casa attorno alle 18.30, raggiunto da almeno due colpi d'arma da fuoco, uno lo ha preso di striscio, l'altro invece lo ha raggiunto al torace non lasciandogli alcuno scampo. Da una prima ricostruzione il giovane avrebbe aperto la porta ai suoi aguzzini, secondo testimoni a bordo di una moto, gli investigatori non escludono che Paolo conoscesse chi lo ha invitato a scendere da casa e aprire la porta. Dopo il primo colpo, non andato a segno, il 19enne ha tentato la fuga sulle scale, ma il secondo lo ha fatto cadere sugli scalini, la moto è poi ripartita a tutta velocità per far perdere le tracce. Sul posto è intervenuta un'equipe sanitaria del 118, allertata dai genitori, che ha provato a rianimarlo in strada, ma Paolo Stasi non ce l'ha fatta, è morto sotto gli occhi del padre e della madre, incensurato e figlio di un operatore di una radio locale. Il 19enne era descritto da tutti come una persona perbene, lontana da ambienti criminali o simili. La comunità di Francavilla Fontana è scioccata da quanto accaduto. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato le indagini senza escludere alcuna pista. Recuperate le immagini di video sorveglianza della zona alla ricerca di frame che possano aver immortalato gli aguzzini del giovane, ascoltati i familiari e gli amici della vittima ed effettuate perquisizioni a tappeto in paese, sequestrato il suo cellulare. Paolo Stasi si era diplomato a luglio scorso, un ragazzo timido e all'apparenza innocuo, descrizioni che alimentano i misteri attorno al suo omicidio, un'esecuzione in piena regola che ad ora non trova apparenti risposte. Al vaglio degli investigatori alcune foto che ritraggono il 19enne in compagnia di alcuni coetanei che sarebbero legati ad alcuni esponenti della criminalità. A seguito della morte del giovane, il comune di Francavilla Fontana ha annullato l'evento di paese, le vie di San Martino, previsto per il weekend, in segno di lutto e vicinanza alla famiglia.